Conto la rovescia per l'elezione del nuovo Presidente della provincia di Foggia, fissata per il 31 ottobre prossimo. Questa mattina a mezzogiorno è infatti scaduto il termine per la presentazione dei candidati presso l'ufficio elettorale della provincia, presieduto dal segretario generale dell'ente Giacomo Scalzulli, è composto da Antonio Di Donato, Michele Tenace, Maria Grazia Pacilli, Anna Maria Colangelo. Sono in due a contendersi la poltrona di comando di Palazzo Dogana, il sindaco di Candela, Nicola Gatta, per il centrodestra, la cui candidatura è stata presentata da 146 firmatari tra sindaci e consiglieri comunali, e il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, per il centrosinistra, candidato da 129 firmatari tra sindaci e consiglieri della Capitanata. Si vota solo il Presidente, che resterà in carica 4 anni fino al 2022 e non la rielezione dei 12 consiglieri provinciali, il cui rinnovo ogni due anni scade il 15 gennaio prossimo. Alle urne saranno chiamati 748 consiglieri comunali e 59 sindaci in rappresentanza dei 623.508 abitanti della provincia di Foggia. Per capire le dinamiche politiche che porteranno ai risultati delle urne del 31 ottobre, è indispensabile considerare anzitutto la geografia del voto. I comuni della Capitanata infatti sono stati accorpati in sei fasce, ognuna di un colore differente che sarà anche il colore della scheda che verrà consegnata ai consiglieri comunali e sindaci che andranno a votare. Nella fascia A di colore azzurro sono compresi i comuni con una popolazione fino a 3.000 abitanti, sono 29 sindaci e 290 consiglieri comunali, il cui singolo voto vale 25 punti. Nella fascia B di colore arancione sono compresi invece i comuni con una popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti, 8 sindaci e 96 consiglieri comunali, il cui singolo voto vale 48 punti. Nella fascia C di colore grigio sono compresi i comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, i sindaci sono 9, i consiglieri comunali 108 e il loro singolo voto vale 88 punti. Nella fascia D di colore rosso sono compresi i comuni con una popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, rappresentati da 8 sindaci e 128 consiglieri comunali, il cui voto singolo vale 155 punti. Nella fascia E di colore verde sono compresi i comuni con una popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, i sindaci sono 4, i consiglieri 96. Ogni loro voto conta 323 punti. Nella fascia F infine di colore viola sono compresi i comuni con una popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti, cioè solo Foggia, con un sindaco e 32 consiglieri comunali. Ogni loro voto vale 712 punti. Si comprende quindi come a decidere l'elezione di Gatta o Merla saranno i rappresentanti dei comuni più grandi, soprattutto quello di Foggia.